I quartieri della Giostra del Saracino e la Fraternita dei Laici, un binomio che affonda le sue radici nella storia di Arezzo. Un legame che ieri è tornato a farsi più stretto con un evento dall'obiettivo importante, gettare le basi di future collaborazioni. All'interno della Fraternita sono infatti presenti documenti risalenti al Medioevo che raccontano non solo il rapporto tra le istituzioni, ma anche la vita e la storia dei quartieri. Ad esempio è stato ritrovato un documento datato 1299 con il quale viene descritto il popolo di Porta Crucifera, uomini, donne, bambini, quanti erano e cosa facevano nella vita. Da qui un'idea per sviluppare un progetto culturale, chiedere ai quartieri di individuare ognuno un ricercatore che possa svolgere approfondimenti storici volti a ricostruire le vicende e le storie del proprio quartiere e quindi della città.